Il contrasto della mafia e la difesa della legalità non costituiscono per noi una generica tensione, ma una deliberata strategia di azione. Voglio rassicurare tutti i cittadini, sarà sempre così fino a quando questo governo sarà qui. E ne approfitto per ricordare, oggi, 19 gennaio, è il giorno della nascita di un grande personaggio che non voleva far l'eroe, addirittura abbia a dichiarare che lui ci capitò per caso ad avere a che fare con la mafia. Paolo Borsellino, nacque 81 anni fa. Un applauso ci sembra corale dall'inquadratura che riusciamo a vedere. Sì, alla memoria del giudice Borsellino, che oggi avrebbe compiuto 81 anni. Tutti in piedi per questo omaggio al noto magistrato e al suo impegno contro la mafia. Permettetemi di aggiungere al vostro ricordo una sua frase che a me è sempre particolarmente piaciuta. La lotta alla mafia deve essere un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Avete toccato in tanti il tema dei decessi. è un tema che... Grazie. 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 Grazie.